Ricambio il saluto, Tony, ogni tanto ci si ritrova. E la giornata è mondiale quest'anno dell'ambiente dedicata, non poteva essere altrimenti, al clima, alla crisi climatica. E quindi mi collego a questo intervento di Max Edkins con qualche numero che forse bisogna sempre avere presente. In aprile, per la prima volta nella storia dell'umanità, abbiamo misurato il superamento della concentrazione di gas di serra di 400 parti per milione in volume. Quindi questa è una pessima notizia. La storia dell'umanità, la civiltà umana, è sempre stata influenzata dal clima, come è ampiamente noto. Questa storia si è sviluppata con una concentrazione di gas di serra tra i 200 e i 250 parti per milione in volume di CO2. Noi nel giro di meno di un secolo l'abbiamo portata oltre i 400. Siamo alla vigilia di un livello che nel filmato che abbiamo visto è stato definito rischio catastrofico di crisi climatica. Questo rischio catastrofico è individuato anche dai rapporti dell'IPPC, cioè del panel intergovernativo IPCC, sul climate change, sul cambiamento climatico, nel livello dei due gradi. Con i trend attuali di aumento delle emissioni e della concentrazione di CO2, dovremmo entrare nel giro di pochi anni in un trend che andrà oltre, che andrebbe oltre questa soglia dei due gradi. Io penso che questo punto debba essere posto alla riflessione centrale di questa giornata mondiale dell'ambiente, perché questo è il problema ambientale principale che l'umanità deve affrontare in questo delicatissimo passaggio. Si può affrontare la crisi climatica? Intanto non è che non sia stato fatto niente. Quello che è stato fatto è risultato insufficiente. A partire dal protocollo di Chioto, il quale ha raggiunto, qualcuno dice, ha fallito, non ha stabilizzato il clima. Però l'obiettivo del protocollo di Chioto era, per i Paesi dell'annesso 1, raggiungere una riduzione media del 5,2% delle emissioni rispetto al 1990. Questo obiettivo è stato raggiunto, anzi è stato superato. I Paesi dell'annesso 1 hanno ridotto le emissioni, non del 5,2%, ma del 14, qualcosa. Però cos'è successo e cos'è cambiato rispetto al 1990? Che nel 1990 i Paesi dell'annesso 1 rappresentavano circa, anzi un po' più della metà delle emissioni mondiali. Paesi industrializzati e di nuova industrializzazione. Oggi sono scesi al 30%. Il grande aumento è avvenuto in Cina, in Indonesia, nei Paesi di nuova industrializzazione. E oggi la Cina ha emissioni pro capite simili, non totali, totali fatte per un miliardo e tre, avete i risultati, ma pro capite simili a quelle europee. Anche l'Europa ha rispettato il protocollo, non solo ha rispettato. Nel protocollo di Chiotto l'Europa aveva un obiettivo di meno 8%. E io mi ricordo tutti i corvi che giravano intorno e dicevano come l'obiettivo medio dei Paesi industrializzati è 7, l'Europa si piglia un punto in più. Ero la trattativa, il tavolo che discuteva di queste cose. L'Europa ha ridotto le sue emissioni del 16%, non dell'8%. E perfino l'Italia, non so se qualcuno di voi, tu Tony, ricorderai sicuro, quando torniamo dal Giappone con quell'obiettivo del meno 6,5%, quel ministro estremista che aveva dato l'avvallo a quell'obiettivo, che era un po' superiore a quello che ci spettava in base al border sharing letterale. Perché poi alla fine, per far tornare i conti, ci prendemmo a quel mezzo punto in più, che sembrava una scelta assolutamente estremista. L'Italia ha superato il suo obiettivo al 7,8%. Un po' la recessione ha pesato, ma la concentrazione di CO2 per unità di PIL, l'aumento dell'efficienza energetica e le rinnovabili, le rinnovabili hanno avuto un boom in pochi anni, hanno contribuito in maniera significativa. Certamente le politiche climatiche non hanno aggravato la crisi economica italiana. ma semmai hanno svolto un ruolo di controtendenza. Ed è un po' qui, secondo me, la riflessione anche che si collega ai territori. Cioè, riusciremo a vincere questa sfida climatica, certamente se ci porremo dei target ambiziosi, ed è il momento di parlarne anche in Italia, perché sta un po' andando in sordino la tematica della crisi climatica. Sta riemergendo quella vecchia cultura meno baldanzosa, cioè che diceva, se ci affissiamo degli obiettivi climatici avanzati, produciamo un disastro economico. Non è più proprio così, però dice, guardate, non è il caso, c'è la recessione, non esageriamo con gli obiettivi climatici. Invece, si può vincere quella sfida se si fanno di quegli obiettivi sfidanti un elemento di cambio di modello di sviluppo, di occasione di nuovo sviluppo nella direzione della green economy. Tutte le cose che sono chieste per fronteggiare, sia dal punto di vista della mitigazione, cioè riduzione delle emissioni, sia dal punto di vista dell'adattamento, cioè riduciamo l'esposizione, cerchiamo di limitare i rischi, perché ormai nella crisi climatica ci siamo, possono avere anche ricadute economiche di innovazione, di investimenti e di occupazione positive nella direzione della green economy. E questo, secondo me, è la novità, è la parte positiva, perché dove si sono ridotte le emissioni, si è potuto farlo con provvedimenti a più vantaggi, a vantaggi ambientali e a vantaggi anche economici. E questo è una via anche quella della green economy, non solo per affrontare la crisi climatica, ma per affrontare anche la recessione, la bassa crescita, la crisi occupazionale. Perché una sfida comporta dei cambiamenti, e dei cambiamenti sono occasione di innovazione. Tornando all'Italia, se giustamente posto l'accento sul carattere, diciamo, l'importanza del patrimonio naturale, dei territori montani, marginali, nel modello italiano, sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista della qualità del benessere. Ovviamente sottoscrivo tutte queste osservazioni che indicano una via possibile per la ripresa di uno sviluppo anche climaticamente sostenibile per l'Italia. Vorrei aggiungere però un terzo fattore. L'Italia è il paese di natura, cultura e manifattura. L'errore storico è stato di contrapporre la manifattura ai primi due. La strategia della green economy punta a legarli tutti e tre, e a legarli in una riqualificazione dei territori. Si può fare cultura, natura e manifattura nella strategia della green economy, con elevata qualità ambientale, in maniera sostenibile per l'ambiente e il clima, e anche con nuove prospettive economiche. E qui gli esempi ormai, per fortuna, abbiamo molti esempi positivi. Cioè noi non abbiamo solo un'agricoltura, chiamiamola, di resistenza, di vecchio modello, ma abbiamo un'agricoltura di elevata qualità che punta sull'integrazione ambientale, sulla multifunzionalità, anche le agroenergie rinnovabili hanno dato un contributo, perché per tenere i giovani in montagna e in campagna bisogna che il reddito sia sostenibile, bisogna che le attività economiche siano convenienti, oltre ad avere modelli di vita e stili di vita che siano appetibili. Io mi ricordo quando giravo per la Costituzione dei nuovi parchi, e in quegli anni ne facemmo molti, incontrando le comunità e i giovani, stavamo nell'appennino tosco-emiliano. Una delle osservazioni che mi fessero i giovani, che stavano tutti, andavano via, e noi, era vero, in una strategia dei parchi, era quella di richiamare i giovani sui territori. Era non economico, ma le ragazze non si vogliono fidanzare con noi perché non vogliono più stare in montagna. Ci dobbiamo trasferire in città, se no non troviamo la fidanzata. I modelli culturali hanno un grande peso per la permanenza sui territori, e quindi questa attrattività dei modelli urbani, alto consumismo, certi stili di vita, hanno una capacità attrattiva che bisogna cambiare, bisogna rendere attrattiva una diversa qualità del benessere. In parte sta avvenendo, perché è uno dei pochi settori, penso che lo sappiate, dove la disoccupazione giovanile è frenata, c'è un rientro di giovani, e l'attività agricola di qualità con un richiamo di giovani sui territori, appunto quelli marginali. Vabbè, un po' è fare di necessità virtù, non trovi un cacchio di altro lavoro, quindi quello che trovi, senza farci troppe poesie. Però un pochino, un pochino, un pochino c'è. Ci sono storie concrete che si stanno verificando in direzione opposta a quella che abbiamo avuto nel passato. Ecco perché una riflessione sulla green economy è opportuna per fronteggiare la crisi climatica, ma in chiave di rilancio di nuova qualità, di nuove opportunità di sviluppo e di occupazione. A me un po' in effetti preoccupa che anche nel dibattito sulla crisi italiana non si colga la dimensione complessa delle crisi attuali e non si colga come la crisi climatica sia parte della crisi sociale e economica, ma sia anche parte della possibile soluzione. Il futuro nostro ormai sarà condizionato dall'esito di questa crisi climatica. Gli studi non sono abbondanti, c'è stato questo di Sterna che ha valutato gli impatti sull'economia della dinamica della crisi climatica in diversi punti del PIL. Ma il nostro futuro dipenderà da come sapremo affrontare la crisi sia dal punto di vista della riduzione delle emissioni. Noi abbiamo in questo semestre la Presidenza europea. Entro l'ottobre il Segretario delle Nazioni Unite convocherà i Capi di Stato e di Governo. L'anno prossimo ci sarà la ventunesima conferenza le sto contando con una certa ansia delle parti sul cambiamento climatico a Parigi che dovrebbe concludersi sul nuovo accordo internazionale post-chiotto che fisserà i nuovi obiettivi che dovrebbero essere legalmente vincolanti. Non si sa ancora attraverso quale forma giuridica. In ogni caso le previsioni che si fanno che l'accordo sarà difficile ma anche i cinesi stanno cambiando per gli impatti che la crisi climatica ha sulla Cina in maniera... sono diventati pesantissimi inondazioni, ondate di calore, vivibilità delle città. È diventato un punto fortissimo del quinto piano quinquennale economico cinese. Questo delle tecnologie verdi e del clima su cinque obiettivi. Tre sono legati a queste grandi problematiche. Quindi si arriverà... Chi ci arriva prima, cioè predispone un modello economico low carbon o a bassissime emissioni di carbonio riuscirà a rimanere nella competitività e nella qualità. Chi si adatterà prima e meglio riuscirà a sostenere l'urto della crisi climatica. Chi non lo farà rimarrà indietro. Cioè ci sarà una ridislocazione delle... non delle classifiche. Adesso noi abbiamo perso un posto rispetto al Brasile. Ma se pensiamo a come l'Italia potrebbe essere colpita dalla crisi climatica, come è già colpita, anche se noi non colleghiamo ancora, neanche i media lo fanno raramente, abbiamo visto che c'è un'intensificazione dei fenomeni atmosferici estremi, che abbiamo delle aree che ormai sono alluvionate con una frequenza pazzesca, però pensiamo ancora al clima come si faceva una volta. Ebbè, ecco, al clima non ci possiamo fare niente. È una specie di rassegnazione. L'Italia è, sia nella sua ricchezza del patrimonio naturalistico, sia nella sua ricchezza di tessuto produttivo, molto esposta al rischio e al cambiamento climatico. Quindi dovrebbe essere in prima fila a promuovere sia gli interventi di mitigazione, cioè per fare molto di più, per tagliare le emissioni di gas di serra, sia per cominciare ad attuare politiche attive di adattamento alla crisi climatica. E queste coinvolgono decisamente i territori. Insomma, c'è una grande prospettiva con una grande potenzialità. Ci vorrebbe anche un po' più di consapevolezza. Credo che l'intervento di Edo Ronchi abbia racchiuso il termine occasione, economia, ambiente, sviluppo sociale. Ci sono tutti gli elementi. Non stiamo parlando del buon selmito, del buon selvaggio. Siamo ben altro. In tutto questo spaccato che è stato raccontato dai notti ai relatori rimane l'ultimo personaggio che è quello del cittadino. La cittadinanza attiva che nel suo nome dice di che cosa si occupa e da lungo tempo, pochi giorni fa il Censi si ha presentato la relazione sullo stato delle scuole. Mi sembra che il cittadinanza attiva lo presenti da forse 15-20 anni. Vabbè, Censi se bravo a vendere il proprio prodotto, se no, non sarebbe derita. Ecco, Marco Rei, presidente di Cittadinanza Attiva. Il ruolo in tutto questo del cittadino, vittima sicuramente, ma anche protagonista. Grazie. Grazie.